Ben ritrovati, è un momento decisamente delicato per la sanità, c'è stata la protesta dei medici, si discute molto dei viaggi della speranza, ci sono però anche esempi positivi soprattutto sul fronte della prevenzione. Oggi raccontiamo la storia che si registra a Benevento con il direttore generale dell'ASL di Benevento, Gennaro Volpi, intanto direttore grazie per la sua disponibilità. Buongiorno a lei, grazie a lei. Partirei da questa vostra iniziativa molto significativa in collaborazione con Confindustria proprio sul fronte della prevenzione oncologica, qual è il significato di questa sfida e soprattutto a chi è rivolto questo progetto? Allora è un progetto che nasce da lontano, la grande sinergia che c'è stato al primo momento con Confindustria, è stato dimostrato dal lab vaccinale che facevamo all'epoca nel quale furono vaccinate 12.000 persone, è veramente un bel dato, gli unici in Italia che hanno fatto le vaccinazioni direttamente con le imprese, quindi all'interno proprio delle imprese, delle imprese presenti sul territorio. E questo è stato un rinnovo di questa collaborazione, di questa forte sinergia che c'è con il Presidente Vigorito e con tutta Confindustria. quindi sulla scorta di quello che è stato fatto negli anni precedenti abbiamo organizzato all'interno di un percorso ampio che ormai è nato da un paio di mesi in tutta la provincia di Benevento, anche siamo andati presso l'impresa proprio a fare screening. Abbiamo portato un nostro track con all'interno un mammografo di ultima generazione, il ginecologo, il pap test, abbiamo fatto e quindi è veramente importante che siamo andati a casa del lavoratore in modo da evitare qualsiasi problema al lavoratore e poter dare veramente un'arma importante che è quello della prevenzione. Io ancora una volta dico e sollecito tutta la popolazione a sfruttare questi momenti che sono veramente essenziali per vivere bene, per poter bloccare tempo le varie malattie, in particolare patologie tumorali. Quanto è importante anche la collaborazione con le altre istituzioni? In questo caso appunto c'è stato questo accordo con Confindustria, un'intesa che arriva, come diceva lei, da lontano. Da lontano, sì. È stato, posso dire semplice perché ci siamo subito intesi col Presidente, con tutto lo staff del Presidente, è stato, devo dire, semplice. Ci siamo capiti dal primo momento. È veramente questo rapporto che c'è stato tra i miei collaboratori, i miei funzionari, loro è stato veramente importante, tanto è vero che abbiamo avuto dei numeri importanti anche sul track, quindi le persone si stanno avvicinando. L'abbiamo esteso oltre che i lavoratori, anche i familiari dei lavoratori e questo vi devo dire che veramente è stata una grande soddisfazione, un grande orgoglio di questa azienda. Ecco, lei nella sua gestione attribuisce molta importanza soprattutto alla prevenzione. A livello nazionale si discute, direttore in questa fase della prevenzione Covid, della vaccinazione, una campagna che decisamente sta andando molto male. Come se lo spiega? Allora, come lei sa, io dal primo momento che sono venuto nel Sannio, parliamo del pre-Covid, nel pre-Covid parliamo di ottobre 2019, ho voluto dare subito un grosso risalto all'importanza delle vaccinazioni. Quindi in quell'epoca si parlava della vaccinazione anti-influenzale e su questo noi abbiamo cadenzato proprio degli appuntamenti annuali per poter dare massima o massima informazione ai nostri concittadini. E quindi è andato bene, perché pure la vaccinazione Covid qua è andata bene, è andata bene perché c'era questo momento di informazione importante, di comunicazione importante curato meritoriamente all'interno della nostra azienda e con questo noi abbiamo dato, abbiamo dato tutte le informazioni utili. La gente, in questo momento le persone logicamente hanno fatto una serie di vaccinazioni anche Covid, non c'è quella, non ci sta ancora quel voler fare, voler fare una ulteriore dose. Devo dire che pure da noi, come in tutta Italia, devo dire che non abbiamo alte percentuali, anzi bassissime percentuali sui richiami. Noi continuiamo a diffondere l'idea dell'importanza di vaccinarsi, specialmente a chi ha patologie croniche e venire presso di noi. Noi abbiamo un ambulatorio aperto tutti i giorni, abbiamo affidato anche alla medicina generale il compito di vaccinare i propri utenti, sia con l'antinfluenzia sia con il Covid, ma anche con tutte le altre vaccinazioni che ci sono, che sono importanti e devono essere fatte. Sulla parte dei bambini infantili, devo dire che i numeri nella provincia di Benevento sono altissimi, ragioniamo, siamo oltre il 98%, quindi si figura veramente un dato veramente importante. Sulle altre vaccinazioni, perché ci sarà la premococcica, l'herpes, che vengono fornite sia da noi come ambulatori nostri, sia alla medicina generale. C'è ancora da fare, però vedo che mano a mano le persone si stanno convincendo. Sul Covid faremo un'ulteriore informazione, pure a livello nazionale è ripartita. Se c'è l'esigenza noi attiveremo anche altri ambulatori, altri open day, però nel momento in cui vediamo che le persone veramente ci chiedono di volersi vaccinare, specialmente contro il Covid. Ecco, infatti si pensa a livello nazionale ad un open day. Intanto va sicuramente meglio la campagna vaccinale per l'influenza, per contrastare l'influenza di quest'anno. Perché è utile, direttore? È utile perché previene una serie di patologie come quella del Covid, che il problema adesso della vaccinazione Covid è prevenire alcune patologie importanti. Parliamo di polmoniti, di bronchiti, è quella che è la cosa importante perché devono essere vaccinati, perché l'influenza può essere presa anche in maniera blanda, però in alcune persone può dare veramente grossi problemi e su questo invito ancora la popolazione a vaccinarsi o a chiedere informazioni al proprio medico di medicina generale. Ecco, si è discusso molto in questa fase, soprattutto in provincia di Benevento, della riorganizzazione dell'emergenza sanitaria del 118. Ecco, il suo piano sta funzionando. In questo momento noi abbiamo riorganizzato il 118 perché come a Benevento, come in regione, come in Italia, purtroppo i medici dell'emergenza sono sempre meno, ci sta sempre meno una vocazione a voler fare il medico dell'emergenza e quindi è stato studiato, però è una cosa che abbiamo inventato a Benevento, parliamo di leggi del 2016, ancora più vecchiotte, che nelle quali veniva previsto una organizzazione diversa. Devo dire che i primi dati che ho sono sicuramente ottimi, si sta arrivando prima dove c'è il problema, dove c'è l'urgenza, stiamo organizzando qualcosa che possa tenere questa integrazione forte tra autoambulanze, anche demedicalizzate e macchine automedicalizzate, in modo da poter arrivare presto, da poter arrivare integrati. E devo dire che oggi è un giorno importante per noi perché proprio mentre parliamo si sta svolgendo il concorso dell'emergenza che ne abbiamo voluto tra un po' di tempo fa. Oggi finalmente è il giorno finale, oggi dovrebbero essere fatte tutte le prove, quindi in serata già sappiamo tutti i vincitori, sperando che ci sia l'affluenza che ci attendiamo. Una volta fatto questo, noi riprogrammeremo le nostre attività per il meglio, sempre possibile per l'utenza, perché nel momento in cui non siamo organizzati veramente possiamo dare qualche problema. Quindi è importante l'organizzazione, la rete, la cerniera che deve coprire tutto il territorio del Sannio. Ecco, uno dei problemi della sanità in campagna è sicuramente quello delle liste d'attesa. Qui nel Sannio com'è la situazione? Qual è la sua analisi? Allora, sulle liste di attesa noi abbiamo lavorato e stiamo lavorando ancora tanto. Lei sa che sulle liste di attesa vengono formulati dei dati in base a determinate prestazioni e su questi grossi problemi non ne abbiamo. Però non ci siamo fermati a questo, abbiamo preso ulteriori specialisti. Stiamo prendendo ulteriori infermieri con il grosso problema che abbiamo, che molte volte non vogliono venire purtroppo nel Sannio. Questo è un problema che stiamo cercando di risolvere. Proprio di ieri avevamo preso altri 5 infermieri, hanno rifiutato tutti e 5. Questo ci crea sempre dei problemi. Però noi su questo lavoriamo, abbiamo acquisito proprio per andare incontro alla diminuzione di liste di attesa una serie di macchinari. Entro fine anno arriverà la cosa forse più importante che viene fatto da sempre nell'assi Benevento, in provincia di Benevento, arriverà la prima risonanza magnetica nucleare pubblica, pubblica che è arrivata, è già arrivato il magnete, che solo per posizionarlo ci abbiamo messo due giornate perché avanza un centimetro alla volta ha dato il peso e quindi è già stato messo in magnete. Quindi nell'arco di 15-20 giorni avremo una struttura in particolare a Cerreto bellissima perché verrà aperto l'ospice, è quasi ultimato anche l'ospedale di comunità, arriva la risonanza magnetica, la TAC, l'ecografo, quindi faremo una cosa veramente, un reparto di eccellenza. Però non solo là perché arriverà la TAC pure in arrivo a San Bartolomeo in Galdo, a Benevento, quindi veramente stiamo cercando di dare una grossa rete, un grosso contributo, un costo contributo per i nostri utenti. Ecco, per chiudere direttore questa nostra intervista, qual è la sua sfida per il futuro della sanità in provincia di Benevento? La mia sfida è già stata lanciata, è stata già lanciata e devo dire una cosa, devo ringraziare tutti i miei collaboratori che mi stanno vicino, lavorano con me, noi ne siamo pochi, ma veramente lavoriamo per tanti, abbiamo acquisito come le dicevo le attrezzature e la mia sfida è quella di realizzare entro fine 2024, anche se le scadenze sono 2026 come è stato il PNRR, realizzare una serie di nuove strutture, nuove strutture che sono state finanziate, oggi e domani faremo la nostra nuova delibera, perché abbiamo un problema legato ai fondi del PNRR, come in tutte le asole italiane i fondi non basteranno quelli del PNRR e qui ci sarà bisogno anche di un apporto economico da parte della regione e da parte nostra. Noi a fronte di quello che abbiamo avuto su tutta la progettualità faremo una rete che sarà veramente integrata, integrante su tutto il territorio, su tutta la provincia, in modo che l'utente possa avere la risposta nel territorio dove abita o spostarsi all'interno dell'astro per avere poi le risposte che più riguardano la propria patologia. Insomma la sua è una missione davvero strategicamente molto significativa per questo territorio, direttore noi la ringraziamo per questa intervista, abbiamo concluso, io ringrazio in regia Paolo Romano, grazie naturalmente ai telespettatori che ci hanno seguito, arrivederci.